Anche oggi come tutte le altre volte parleremo di cucina, di donne, di donne abbiamo già parlato, accennato ma andremo avanti ancora Non mi fa dire neanche i nomi Anche Ugo Conti e Gianfranco, grazie Esatto, è vero ma noi due siamo importanti relativamente È vero Avremo tantissimi ospiti anche questa mattina quindi voi mandateci tutte le vostre cose Adesso andremo anche su Facebook Vogliamo sapere come ieri le pizze Perché ieri non fare questi versi ma le hai fatte anche ieri la pizza Anche oggi come tutte le altre volte parleremo di cucina, di donne, di donne abbiamo già parlato